Davide Mazzantini, portati qui allo Spirit da uno dei nomi di casa del Blues in Italia, Mr. Max Prandi! E loro iniziano con noi stasera il loro tour italiano, credo, non so, 8, 9, 10 date, qualcosa del genere, e noi li abbiamo voluti per iniziare qua allo Spirit. Ray Wallen e Davide Mazzantini, fatevi dire due cose in inglese così almeno Ray capisce. Ray Wallen e Davide Mazzantini, potete trovare loro regolari, quasi ogni giorno in Londra, in quasi tutti i locali, perché in Londra è bello, potete giocare il Blues ogni giorno con la loro band Dazz Me Down Blues. Davide è anche un grande guitarista, ha giocato recentemente con grandi nomi, come Jan Siegel o Paul Lamb. Dico due cose in italiano, per chi magari non conoscesse. Loro vengono da Londra e sono due nomi che potete trovare praticamente ogni sera, se girate a Londra o nei dintorni, loro suonano sempre, o insieme, o magari in altre formazioni, ma non solo a Londra, girano tutta l'Inghilterra in realtà. E lì hanno l'occasione di suonare veramente con grandissimi musicisti, come dicevo Davide ha suonato recentemente anche con nomi come Jan Siegel e cose così. E quindi, che dire, lascio la parola a loro che forse è meglio che taccia. Ray Wallace, time for thrill! Thank you, good starting. Previamo. The Blues Train. Sì 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 Sì